Benvenuto e benvenuta in questo nuovo video del laboratorio di Excel per tutti. Mi chiamo Damiano Causale e in questo video ti mostrerò come creare degli elenchi personalizzati in Excel attraverso dei semplici esempi. Bene, entriamo all'interno della nostra cartella di lavoro e vediamo innanzitutto di cosa sono questi elenchi personalizzati. Dove li troviamo? Ora, hai presente quando vai a inserire per esempio il nome del mese in una cella e poi utilizzando la maniglia di riempimento ti ritrovi con il completamento di tutti gli altri mesi? Ecco, questi fanno parte di un elenco presente in Excel. Dove si trovano questi elenchi? Andiamo in alto sulla scheda File, andiamo su Opzioni e poi dalla finestra di dialogo Opzioni di Excel andiamo a selezionare le impostazioni avanzate. Scorrendo con la barra verso il basso andiamo sull'area dedicata alla sezione chiamata Generale. Ora, dobbiamo fare clic su Modifica elenchi personalizzati. All'interno di questa finestra di dialogo elenchi abbiamo appunto quelli che sono gli elenchi personalizzati. Come potrai notare, all'interno degli elenchi personalizzati è presente anche un Nord, Sud, Ovest, Est che ho inserito in modo da sfruttare queste diciture nei miei esempi. Ora, come potrai notare, abbiamo anche i nomi abbreviati dei giorni, i nomi per esteso dei giorni della settimana, i nomi abbreviati dei mesi, i nomi per intero dei mesi. Bene, vediamo quali sono le modalità per creare un nuovo elenco. Ora, la prima modalità è quella di fare un clic su il nuovo elenco. In questo modo non ci resta che aggiungere le voci, per esempio frutta, diamo l'invio per andare a capo, verdura, andiamo a capo, carne, pesce. Ora, benissimo, terminato l'inserimento, diamo un clic sull'ok. Annulliamo questa finestra, ora proviamo a digitare in una cella qualsiasi la scritta frutta, andiamo attraverso la maniera di riempimento, ci posizioniamo nell'angolino della cella e poi trasciniamo verso il basso. Come vedi, Excel ci propone quelle che sono le voci già inserite, che abbiamo appena inserito. Questa è la prima modalità, abbiamo anche altre due modalità, ritorniamo sempre su file, ancora su opzioni, andiamo su impostazioni avanzate, scorriamo con la maniera di riempimento, con la barra di scorrimento, facciamo un clic su modifica elenchi personalizzati. Ora vediamo come è possibile invece selezionare, importare un elenco da alcune celle. Supponiamo di voler importare gli elementi inseriti a partire dalla cella K5, ora ci posizioniamo all'interno di questa casellina, andiamo poi a selezionare le celle che vogliamo importare e facciamo un clic su importa. Excel inserisce all'interno degli elenchi tutte queste voci. Diamo l'ok, ora annulliamo questa finestra, scriviamo in una cella settore A e successivamente troviamo il completamento A, B, C, D e così via. Bene, infine vediamo l'ultima modalità, che è quella che ci consente di prelevare dei nomi da un intervallo. Ora ho assegnato a questo intervallo, l'intervallo di celle C5, C14, un nome, dunque intervallo, come potrai notare dalla casellina in alto, la casella nome, ci mostra la scritta intervallo. Ora andiamo di nuovo su file, facciamo un clic su opzioni, facciamo un clic su impostazioni avanzate, scorriamo verso il basso, ritorniamo su modifiche e elenchi personalizzati e ora inseriamo in questa casellina l'uguale e il nome dell'intervallo di celle, quello che io ho chiamato intervallo. Intervallo, diamo l'ok per confermare, ritorniamo ora su, annulliamo un attimo la finestra, digitiamo da 0 a 10, ora estendiamo verso il basso e al momento c'è qualche errore ovviamente, ritorniamo, ovviamente ho sbagliato nella procedura opzioni, impostazioni avanzate, ritorniamo un attimo modifiche e elenchi personalizzati, ok, non ho dato l'uguale, ho inserito intervallo, ma non ho cliccato su importa, intervallo, dunque facciamo un clic su importa, benissimo, ora è tutto corretto, diamo all'ok, annulliamo un attimo questa finestra, ritorniamo sulla cella, digitiamo da 0 a 10, perfetto, trasciniamo verso il basso e a questo punto Excel completa i dati con il nostro intervallo. Come hai potuto notare ho commesso in precedenza un piccolo errore, dunque quando ho inserito, non ho caricato in modo corretto gli elenchi, Excel mi ripropone questa sequenza da 0 a 10, da 0 a 11, dunque non rispetta quello che è l'elenco che ho inserito. Bene, spero che questo video ti sia utile, se non ti sei ancora iscritto al canale iscriviti per restare aggiornato sui prossimi video e ti aspetto al prossimo video. Grazie.